Oggi abbiamo incontrato i ragazzi di New Motospazio che hanno organizzato un evento denominato Demo Tour. Infatti oggi era possibile provare gratuitamente vari modelli di casa Morini. L'evento ha suscitato molto interesse. Sin dalle prime ore del mattino vi erano molti motociclisti in fila per le registrazioni all'evento. Da New Motospazio potrete trovare moto nuove e usate, tantissimi accessori, ricambi, e abbigliamento da moto. New Motospazio è anche officina con reparto sospensioni. In conclusione New Motospazio soddisferà tutte le esigenze di noi centauri. New Motospazio New Motospazio New Motospazio New Motospazio